Buongiorno, ben ritrovati, mercoledì 3 maggio, siamo puntuali, sono le 12 in punto, questo nuovo appuntamento con la prima edizione di Antenna 3, abbiamo tanta cronaca di cui darvi conto e poi ci sarà spazio per il confronto politico perché manca davvero poco alle amministrative di maggio, del 14-15 maggio a Treviso e non solo, cronaca che ci porterà anche nel Vicentino Montecchio Maggiore, una vittima, una donna che ha perso la vita nell'incendio scaturito dal materasso, andato in fiamme e poi c'è la nuova udienza per il processo per la morte di Mattia Battistetti, il 23enne morto due anni fa in un incidente sul lavoro travolto da un carico che si è staccato da una gru in un cantiere a Montebelluna, oggi nuova udienza, ma poi ci sono altre novità dal punto di vista giudiziario che arrivano dal Tribunale di Treviso, ci racconta tutto il nostro Cristian Arboite insieme a Nicoletta Rizzetto, buongiorno Cristian. Buongiorno Francesca, buongiorno a te e a tutti i telespettatori di Antenna 3 anche da parte di Nicoletta Rizzetto per la parte tecnica, una giornata densa qui in Tribunale a Treviso a partire proprio dal caso Battistetti, come dicevi te Francesca, udienza preliminare la terza udienza preliminare di questo caso, più o meno tre anni fa il 29 aprile del 2021 nessuno moriva in via Magellano in un cantiere a Montebelluna il povero Mattia Battistetti all'epoca soltanto 23 anni, si è aperto il processo a carico dei titolari della ditta dove lavorava, delle diverse cooperative e nella giornata di oggi dovrebbero esserci importanti e novità all'interno del Tribunale, al primo piano c'è una Camera di Consiglio, questo cosa significa? significa udienza a porte chiuse, ma stanno trapelando alcune informazioni, tra queste quella che è stata respinta la richiesta della difesa della ditta Bordignone di esperire un incidente probatorio, quindi ricreando di fatto il luogo dell'incidente e la dinamica dell'incidente, ebbene questa richiesta che aveva fatto sollevare gli scudi alla parte civile dei familiari è stata respinta, in questo momento si sta entrando nel merito delle diverse posizioni e delle diverse richieste di rinvio a giudizio, staremo a vedere nel corso della giornata il GUP potrebbe sciogliere le riserve, come sempre a sostenere mamma Monica, papà Giuseppe, la sorella Anna che tutti voi conoscete, tra l'altro sabato a Montebelluna c'è stata una camminata in memoria di Mattia, proprio a tre anni dalla tragedia, ci sono le RSU dell'Electrolux, diversi rappresentanti del mondo civile, ormai ogni udienza preliminare è presidiata perché il caso di Mattia Battistetti è diventato il caso che dà la misura della tragedia senza fine che si sta verificando sui luoghi di lavoro, tra l'altro pochi giorni fa i dati ISTAT che confermano come il Veneto sia maglia nera, voi siete presenti come RSU Electrolux, perché? Noi abbiamo accompagnato dal primo momento i genitori e la sorella di Mattia in questa lotta per avere giustizia in questo percorso, abbiamo fatto come diceva lei anche la camminata insieme alla famiglia per ricordare Mattia e per ricordare tutti i morti sul lavoro per gli incidenti, ma più che gli incidenti questi sono veri e propri omicidi, noi siamo sempre stati dal punto di vista sindacale ma ci sentiamo comunque appartenenti in qualche modo a questo incidente che è successo a Mattia, li abbiamo sempre accompagnati e continueremo in questo percorso insieme. Continuerete a farlo, grazie. Tra l'altro sabato a Montebelluno in via Magellano per quel corteo c'era anche la mamma di Andrea Soligo, un altro ragazzo morto in un incidente sul lavoro l'anno scorso, era a gennaio 2022 a Tezze sul Brenta, perché? Perché è importante dire che le morti sul lavoro non sono più tollerabili. No, la difesa di alcuni diritti dei lavoratori parte anche dalla sicurezza sui posti di lavoro e purtroppo noi siamo un gruppo qua che non siamo neanche presenti a dirla tutta in Parlamento, siamo un gruppo politico però siamo sempre dalla parte dei lavoratori e questi sono, ecco come è stato abbandonato il mondo del lavoro. Siamo stati abbandonati, abbandonati lo sono i pensionati che derivano dal mondo del lavoro, in tutti i sensi abbiamo perso e 30 anni che continuiamo a perdere i diritti. Per questo è importante essere qui oggi. Grazie davvero. Un altro aggiornamento, Francesca in attesa di avere novità dalla Camera di Consiglio questa mattina qui a Palazzo di Giustizia, un importante procedimento, vi riporto con la mente i fatti terribili tra il 2020 e il 2021 quando la banda dei giostrai colpì in tutto il nord-est, decine e decine di colpi e Bancomat fatti saltare in aria con la tecnica della marmotta, un potente esplosivo. Ebbene, la riforma Cartavia ha azzoppato di fatto questo processo perché come sai da gennaio alcuni reati contro il patrimonio non sono più procedibili se non c'è una querela di parte e quindi in questi mesi alcuni istituti, alcune banche che sono state visitate da questa banda di giostrai non hanno presentato denuncia querela. Il processo va avanti ma va avanti per l'appunto Monco, restano le fatti specie più gravi come l'utilizzo dell'esplosivo, l'associazione a delinquere, ma ricordiamo insomma sono stati fatti particolarmente cruenti, circa una quindicina tra le province di Treviso, Vicenza, Pordenone, quasi tutti i soggetti residenti nel Trevigiano. Questa mattina appunto la difesa ha giocato le proprie carte, in tanti hanno chiesto anche di patteggiare all'incirca due anni e sette mesi. Sono questioni ovviamente giuridiche, giuridico-legali, ma che poi vanno a colpire direttamente il cuore vivo di queste grandi operazioni e di questi blitz che tanto fanno discutere. Per il momento da Palazzo di Giustizia se non hai domande Francesca con Nicoletta Rizzetto ti restituisco la linea. Grazie davvero Cristian Arboit, grazie a Nicoletta Rizzetto per averci raccontato questa giornata così rica di contenuti in Tribunale a Treviso, poi questa sera nel corso delle nostre edizioni dei telegiornali vi daremo conto di tutte le novità emerse. La cronaca ci porta a parlare nuovamente della morte di Edoardo Zattin, lo studente diciottenne che si è sentito male dopo un allenamento di box, a causare l'emorragia che lo ha ucciso secondo i primi riscontri della Procura sarebbe stato un pugno violentissimo. Un trauma fortissimo tale da provocare la frattura della scatola cranica con conseguente emorragia interna. È questa la causa della morte di Edoardo Zattin, lo studente di Est che si è casciato dopo un allenamento in una palestra di Monselice senza più riprendere conoscenza secondo i primi esiti delle perizie medico-legali disposte dalla Procura di Padova che sulla morte del diciottenne ha aperto un'indagine per omicidio colposo. A causare il trauma sarebbe stato un pugno violentissimo subito probabilmente durante l'attività di sparring che Edoardo avrebbe fatto quella sera in palestra tra le 19 e le 20. L'ultimo suo compagno, un 35enne di Rovigo, nessuna tra le persone sentite dai carabinieri, istruttori e frequentatori della palestra avrebbe mai parlato di contatto fisico violento però, come resta ancora da chiarire se durante l'allenamento Edoardo indossasse o meno il caschetto di protezione. Quel che è certo è che dopo un malore intorno alle 20 e 15 la palestra chiama al 118. I sanitari capiscono subito la gravità della situazione. Edoardo da Monselice viene trasportato all'ospedale di Padova dove è sottoposto a un delicato intervento nel reparto di neurochirurgia. Tutto inutile. Edoardo muore il 24 febbraio dopo due giorni di agonia a chiedere di fare chiarezza su quanto accaduto i genitori di Edoardo Zattin, presenti agli accertamenti attraverso i legali che li tutelano. L'inchiesta della procura di Padova va avanti per ora senza alcuna persona iscritta nel registro degli indagati. Adesso torniamo nella marca trevigiana, andiamo ad Asolo per l'esattezza perché a quanto pare la rottura di una tubatura ha provocato un cedimento del manto stradale ma anche di un tratto di pista ciclavile. Ci racconta meglio quanto è accaduto questa mattina in una mattinata davvero movimentata ad Asolo il nostro Lucio Zanato che vedo insieme ad un ospite. Buongiorno a te Lucio, buongiorno al tuo ospite. Buongiorno Francesca, buongiorno ai tre spettatori di Antena 3. Mi trovo a lungo via Palladio per intenderci la strada che da Casella ad Asolo porta verso Crespignago. Una strada bellissima da muoversi in bicicletta sono con il vice sindaco di Asolo, Franco Dallarosa, perché è il sindaco in questo momento in giro per l'Europa a promuovere questo territorio. Allora, qui il comune di Asolo sta facendo una pista ciclabile nell'ambito delle iniziative per promuovere il turismo. Questa è una strada che i cicloturisti amano particolarmente o è per la bellezza sia delle colline, la presenza di ville paladiane, più avanti c'è Villa Barbaro, giusto per intenderci, a Maser e quindi avete capito più o meno la strada. Oggi alle 8, cosa è successo, vice sindaco? Stamattina alle 8 è scoppiato un tubo di condotta dell'acqua per l'irrigazione del Consorzio Piave. Quindi non acqua potabile, quindi non c'è problema per le famiglie? Non acqua potabile, è un tubo grosso di un metro e dieci con una bella portata, perché è un tubo in pressione da circa 4 bar, quindi è scoppiato e ha creato una voragine trasportando a valle della pista ciclopedonale un bel po' di terra. Per cui fortunatamente questo tipo di tubi o di interventi hanno una valvola che intercetta il calo di pressione e viene chiusa l'acqua a Monte del Val. Quindi la perdita è stata relativa, pur essendo elevata, però qui è stato un problema della benna che stava lavorando oppure è stata una cosa, diciamo così, accidentale? No, la benna sicuramente non ha danneggiato il tubo, perché il tubo è in profondità circa 2 metri dai 2 ai 3 metri. La macchina operatrice stava lavorando in superficie, quindi è stato un cittadino strutturale, probabilmente però le cause saranno da apurare. Ecco, noi abbiamo sentito, Francesca, i tecnici del Consorzio Piave, ci hanno detto che questa è una delle prime condotte che sono state messe giù proprio per il risparmio idrico. Sapete che adesso c'è un grosso lavoro di risparmio idrico per quanto riguarda l'irrigazione da parte appunto del Consorzio Piave che conduce l'acqua verso la piana, diciamo, di Montebelluna, Trevignano, eccetera. Una volta si veniva giù con le canalette, quindi c'era una forte dispersione, adesso invece si usano i tubi e poi si usa, diciamo così, l'irrigazione a goccia che è estremamente risparmiosa. Solo che c'è il problema che deve arrivare in pressione, altrimenti non esce dai tubi, dalle tubature. Partendo a 4 bar da qua, quando arriva a Montebelluna è l'impressione assolutamente giusta. Il problema è che qui quando una pressione di 4 atmosfere spinge, basta un minimo movimento e una tubatura magari che ormai mi pare abbia quasi 20 anni evidentemente ha ceduto. Però tutto questo è risolvibile, non ci sono stati feriti, non ci sono stati grandi danni, a parte appunto un fiume d'acqua che per un quarto d'ora è uscito. Adesso il futuro qual è? Cioè la viabilità è chiusa? Cosa succede per chi deve tornare a casa o usare questa strada? Allora la viabilità è stata immediatamente chiusa e la stanno ripristinando in questo momento con un doppio senso di marcia, stanno polendo la strada con l'autobotte e verso sera ci sarà il ripristino della normale viabilità. E poi per quanto riguarda la pista ciclabile, perché noi abbiamo tanti cicloturisti che magari domenica vorrebbero passare da questa strada, si potrà passare lo stesso? Per domenica sicuramente non sarà giustata, però nei prossimi 15 giorni siamo fiduciosi. Grazie, se hai domande Francesca ti restituisco la linea. Grazie, grazie mille Lucio e grazie al vice sindaco per averci raccontato quanto accaduto anche in modo molto tecnico e preciso che cosa sta alla base di questo guasto che poi ha provocato, l'avete capito, un cedimento di parte del manto stradale. E a Vovecchio ci spostiamo dunque in provincia di Padova, intervento dei vigili del fuoco, questa volta per una fuga di gas. L'allarme è scattato intorno alle 20 quando l'accaduto di un pioppo in via Vasche a Vovecchio ha provocato un danneggiamento a una tubazione del gas con conseguente fuga. Nessuna persona è rimasta ferita. In via Vasche, sotto una pioggia battente che ha reso difficili le operazioni, sono intervenute le squadre di vigili del fuoco di Abano, Padova ed Este, che hanno usato la gru per sollevare l'albero e mettere in sicurezza l'area. Sul posto anche i tecnici dell'azienda del gas, il comune e i carabinieri di Lozzo a Testino. L'intervento è terminato intorno all'una della scorsa notte. Disastrosa alluvione in Emilia Romagna, colpite in particolare le province di Bologna, Forlì e Ravenna. Le criticità sono assai diffuse con sormonti e rotte arginali e frane. Sono state evacuate alcune centinaia di persone e la piena non è ancora transitata del tutto. Un ottantenne è morto, travolto dall'esondazione del fiume Segno a Castel Bolognese, nella Ravennate. In queste ore la protezione civile del Veneto sta preparando le squadre da inviare per supportare le forze in campo. Questa notte è arrivata a Bologna una squadra di scouting che si sta rapportando con la sala operativa emiliana. Vengono chieste squadre di volontari per la pulizia delle case allagate, ma anche per integrare le saccate che sono state già predisposte. Sono state predisposte squadre di volontari della protezione civile, in partenza dalle province di Rovigo, Patova, Venezia e Verona, oltre a squadre dell'Associazione Nazionale Alpini. E adesso torniamo in Veneto con la testimonianza di un imprenditore, una delle tante voci, non c'è ancora questo collegamento, dovremmo avere un collegamento tra un po' Alex e Giuliano, ecco lo vedo, insieme ad un imprenditore. Buongiorno Alex, buongiorno al tuo ospite, che ci racconta le difficoltà di tanti altri suoi colleghi nel trovare personale da impiegare nella propria azienda. Di nuovo buongiorno, Alex, buongiorno al tuo ospite, a voi la linea. Un buongiorno allo studio, un buongiorno ai nostri telespettatori. Noi ci troviamo a Cassola per parlare di quello che è un problema che riguarda tanti imprenditori del territorio, ovvero la carenza di personale, e la difficoltà di reperire personale per chi lavora, ad esempio, nel settore metalmeccanico, come il signor Flavio Dallacosta, che è il titolare dell'azienda Lamec, uno dei punti di riferimento per quello che riguarda proprio la lavorazione dei metalli nel Bassanese, un'azienda che esiste da oltre 40 anni e che in questo momento qua sta vivendo una difficoltà, dicevamo, comune a tante altre realtà economiche del territorio, perché, signor Dallacosta, lei non riesce a trovare il nuovo personale. Esatto. Il problema principale è che oggi le scuole professionali sono molto poche per il territorio bassanese, per cui bisognerebbe incentivare anche tutti questi studi, soprattutto infrastrutture che portino molte persone a frequentare questi centri professionali per avere un minimo di professionalità per quanto riguarda la lavorazione su macchine utensili e quindi a controllo numerico, che oggi diciamo che nel Bassanese sono molto scarse. Ecco, questo è un primo problema. Ecco, il signor Dallacosta, prima di iniziare la nostra diretta, ci spiegava che uno dei motivi per cui si fa così tanta fatica, che poi è legato a un tema di stretta attualità, è il reddito di cittadinanza. Cioè sono tante anche le persone che rinunciano a questo lavoro nonostante si tratti di contratti economicamente importanti perché appunto, secondo lei, c'è questo sussidio da parte dello Stato che va in un certo qual modo a disincentivare l'interesse per il lavoro. Diciamo che l'ufficio di collocamento non fa esattamente il lavoro che dovrebbe fare. per cui molte società private propongono dei lavoratori che poi per assumerli devi anche avere un costo importante mentre l'ufficio di collocamento dovrebbe, diciamo, spingere molto di più a proporre il personale anziché rimanere un po' così come stanno facendo senza fare niente. Per cui diciamo che arrivano continuamente mail di aziende private che propongono personali che poi sono commercialisti, impiegati ma nel settore lavorativo niente o quasi niente. Come si va avanti a questo punto? Qual è la soluzione? Perché non solo prima il signor Dallacosta spiegava chi è esperto difficilmente cambia lavoro perché non si lasciano sfuggire diciamo gli imprenditori i lavoratori più esperti mancano i giovani come si va avanti però? Come si va avanti? Non so come si va avanti cioè bisognerà pensare come dicevo inizialmente di creare dei centri per l'impiego che funzionino e poi anche creare questi istituti professionali che per avere molta più disponibilità di personale specializzato all'interno dei quali ci dovrebbero essere anche delle macchine tecnologicamente avanzate per poter portare questi allievi a un livello ottimale. Questo sarebbe la cosa fondamentale. E da Cassola proprio dal centro il cuore di questa azienda che lavora il metallo è tutto un problema un grido d'allarme che è condiviso da tanti imprenditori e noi lo riportiamo a voi a voi studio. Grazie grazie davvero Alex Giuliano grazie al suo ospite è un grido che più volte è risuonato in questi spazi proprio dagli imprenditori e in modo trasversale da tutto il mondo economico Veneto parliamo di migrazione perché mentre il governo pone la fiducia in Parlamento al decreto cutro a Padova la prefettura cerca posti per l'accoglienza dei migranti sono circa un centinaio i migranti arrivati nell'ultima settimana a Padova la prefettura sta cercando di trovare i posti per l'accoglienza con i numeri che continuano a crescere il prefetto ha incontrato nei giorni scorsi anche il vescovo per sondare la disponibilità delle strutture della Caritas per distribuire i migranti nel territorio intanto il comune di Padova ha messo a disposizione l'ex scuola Gabelli una trentina di posti utilizzati durante l'inverno per l'accoglienza notturna dei senza tetto e ora a disposizione anche se per un breve periodo visti i lavori che dovranno essere eseguiti l'ex Gabelli è un luogo che si presta a questo tipo di utilizzo naturalmente come comune abbiamo dato il limite al fatto che sarà ristrutturata con i fondi PNRR proprio per migliorare l'accoglienza delle persone senza dimora quindi è una struttura a cui il comune tiene molto ma che momentaneamente per ragioni di ordine superiore e in realtà con la prefettura diamo alle persone migranti nel frattempo il governo porta la camera al decreto cutro su cui ha posto il voto di fiducia a un provvedimento spiega l'assessore Colonnello che potrebbe mettere in difficoltà i comuni visto che il decreto prevede la cancellazione della protezione speciale per i migranti Comenti locali siamo molto preoccupati per l'approvazione di questo decreto come Anci abbiamo espresso queste preoccupazioni proprio all'orizzonte e all'oggetto del governo e questo perché eliminando la protezione speciale temiamo che aumenti l'insicurezza nelle nostre città perché non saremo in grado di attribuire un'identità e un documento a tante persone che per un motivo o per l'altro di solito per sfortuna lo perdono durante la loro permanenza qui questo ci metterà in forte difficoltà e speriamo che il governo torni indietro su questo provvedimento l'assessore a Colonnello non risparmia le critiche al decreto Cutro che toglie ai comuni anche un altro strumento importante per l'accoglienza ai migranti chiediamo di rafforzare il sistema di accoglienza e integrazione promosso dai comuni che si chiama SAI ma in questo caso il governo non ci viene incontro anzi limita le possibilità di questo sistema di accoglienza che nella nostra esperienza riesce a includere al 100% tutte le persone che lo attraversano proprio perché è ben radicato nel territorio e al posto che puntare su questo sistema di accoglienza il governo punta su il sistema di accoglienza delle prefetture cosiddetti CAS e continuiamo a parlare di accoglienza ma questa volta quella calorosa riservata da una parrocchia di Padova Don Oscar il primo parroco africano della diocesi di Padova lo vedo insieme alla nostra Valentina Visentine buongiorno Valentina e buongiorno Don Oscar buongiorno da Padova ci troviamo nella quartiere di Brusegana davanti alla parrocchia di Santo Stefano d'Ungheria per presentarvi quello che ormai è diventato il sacerdote più famoso della diocesi di Padova qui con me infatti c'è Don Oscar Cassongo primo parroco possiamo dire parroco amministratore primo parroco amministratore africano della diocesi di Padova il vescovo Monsignor Claudio Cipolla affidato a Don Oscar la parrocchia di Brusegano una parrocchia molto grande molto importante e quindi il primo incarico per Don Oscar come sei stato accolto qui Don Oscar? Ecco vorrei ribadire prima di tutto sono amministratore poi sono venuto a sapere che sono il primo africano a essere amministratore in questa grande diocesi di Padova ecco sono stato accolto io posso dire questa parrocchia mi ha accolto bene nel senso mi sono trovato bene da subito magari perché avevo anche bisogno di un prete giovane che anche con il mio modo di essere con questa cultura nuova ha portato anche un nuovo evento in questa parrocchia di Santo Stefano quindi mi sono sentito accolto bene da questa comunità e dai fedeli di questa bellissima parrocchia 37 anni lo possiamo dire sei stato ordinato è stato ordinato sacerdote nel 2017 nel tuo paese d'origine il Congo hai parlato dell'accoglienza calorosa che ti è stata rivolta ma c'è il tema più generale dell'accoglienza dei tanti migranti che vediamo dalle immagini dei telegiornali è un tema che fa molto molto discutere che fa insomma smuove anche i cuori vedendo le immagini di questi barconi che arrivano nel nostro paese insomma che messaggio ti senti di dare davanti a questo tema allora sicuramente il tema dell'accoglienza ma anche delle migrazioni è un tema ampio allora io direi sicuramente tanti di questi giovani che magari si spostano da lontano per venire a cercare un futuro devono essere accolti ecco l'accoglienza è il primo il primo gesto che si può fare ecco accogliere non rigettare non rifiutare che questi qua siano accolti che sia non solo in Italia ma in Europa perché sono in ricerca di un futuro poi basta vedere anche le condizioni sulle quali vengono nel senso qualcuno deve attraversare anche il mare magari qualcuno ho parlato anche con qualcuno di loro magari ha fatto un viaggio senza prendere l'aereo quindi dall'Africa magari anche dal Congo dal Nigeria per arrivare in Europa senza prendere l'aereo quindi sicuramente è una persona che sta cercando un futuro nella sua vita quindi la prima cosa che sta aspettando arrivando in un paese è l'accoglienza certo l'immigrazione è un fenomeno che non ha cominciato da adesso quindi è una cosa da quando il mondo è mondo c'è sempre stata questa immigrazione persone che devono migrare per andare a cercare il futuro magari il benessere una cosa del genere solo che questi qua devono essere accompagnati perché quello che manca magari tante volte è quello che quando sono accolti non basta soltanto che siano accolti ma devono essere accompagnati perché devono integrarsi capire la cultura così possono pure anche aiutare questa società o magari anche tanti altri paesi europei che li accolgono a aiutare anche lo sviluppo delle società europee quindi sicuramente l'accompagnamento l'accoglienza ma anche l'integrazione sono i processi magari da mettere in campo per aiutare questi migranti a trovare puro anche magari a riuscire a trovare magari un futuro meglio e poi c'è anche un'altra cosa magari che io lo lancio adesso perché oggi tanti di questi giovani si muovono vengono qua e anche magari dobbiamo chiederci perché stanno venendo qua certo ci sono tante condizioni magari la guerra la situazione politica in tanti di questi paesi magari anche la vita non è così facile ma anche i media hanno anche contributo tanto perché quando fanno vedere che l'Europa è un paese dove tutto va bene non c'è non c'è sofferenza non c'è ecco quindi se vai lì basta arrivare lì e poi ti trovi già tutto sicuro invece non è così perché io ho visto che tanti che vengono anche qua hanno lasciato anche un lavoro erano anche stavano bene pure anche in Africa solo che magari seguendo magari quello che vedono alla tv o magari anche i consigli di tanti di noi magari anche veniamo dall'Africa o magari da qualche altro paese che magari mostriamo a loro che magari se vieni qua e stai bene invece quando vengono trovano che non è proprio quello che si aspettavano quindi c'è anche qua un cammino da fare magari il nostro modo di passare la comunicazione di questo mondo di vivere qua in Europa aiuterà anche tanti giovani a cambiare idea magari di rimanere lì a investire lì e poi magari a trovare un futuro magari nel paese dove si trovano grazie allora Don Oscar dalla Brusegana dal quartiere di Brusegana a Padova è tutto restituisco la linea allo studio e grazie Valentina e grazie a Don Oscar adesso noi ci fermiamo viviamo la pubblicità e poi lo spazio con il confronto politico come detto in vista delle prossime amministrative di Treviso tra pochissimo Rieccoci in diretta come annunciato c'è spazio per il confronto politico manca davvero poco ormai alle amministrative in Veneto a Treviso è una delle città più sulle quali si concentra l'attenzione probabilmente di tutti insieme all'altro capoluogo Vicenza eccolo qui già inquadrate due delle mie tre ospiti oggi un confronto tutto al femminile quindi ci sarà spazio e modo per parlare anche proprio del ruolo delle donne nella vita politica ma non solo anche poi parleremo agganciandoci al decreto lavoro a quella che è la disoccupazione femminile quindi come intervenire perché poi è un grande discorso che si aggancia alle tematiche anche prettamente calate sul territorio saluto ringrazio per essere con noi l'avvocato Alessandra Nava di Tagliaviva Azione Futura buongiorno avvocato saluto Gloria Tessarolo della lista Conte assessore uscente della giunta Conte poi in collegamento Skype buongiorno grazie per essere con noi Antonella Pietrobon dell'Alissa De Nardi ben ritrovata grazie per essere con noi buongiorno a tutte voi allora subito però tre minuti questo è il tempo concordato e ringrazio Ilaria Marchiori perché c'è un'iniziativa molto particolare per tornare a parlare Ilaria della tanto discussa torre di Viale San Marco buongiorno Ilaria non c'è Ilaria sì alle tre di questa notte approverò l'inizio cantieri manca misura non passa mai approvo per delibera interroga il tempo che passa che sono le tre una due bene sono le tre tutti dormono via quei ruspe ecco buongiorno Francesca buongiorno ai nostri telespettatori non siamo impazziti ma abbiamo voluto aprire questo collegamento con un breve stralcio di quella che è la rappresentazione che è andata in scena sia ieri sera che sarà replicata proprio questo pomeriggio da parte e si può dire realizzata da parte del comitato contrario alla realizzazione della torre che dovrà sorgere in Viale San Marco allora voi che innanzitutto ringrazio Gigi Brunello che è il realizzatore di questa marionetta che l'avrete vista rappresenta il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro che cosa volete comunicare l'ennesimo messaggio all'amministrazione che dite si sta dimostrando sorda e sta andando avanti nel suo progetto noi continuiamo a resistere e a rilanciare perché tutti sappiano che non vogliamo che venga fatto questo scempio questa devastazione contro il buonsenso invitando la giunta a chi non l'ha fatto a leggerselo e tutti comunque a leggerselo e studiarlo come ha fatto il comitato e tornino al buonsenso perché così noi li rispetteremo un tanto di cappello se cambiano idea e dimostreranno di essere uomini e donne e non burattini speriamo che lui non mi senta ecco avete sentito qui insieme a me abbiamo pochissimi secondi perché sappiamo che i tempi sono stretti anche Piero Francescon qual è il messaggio che volete comunicare? No siamo intervenuti all'interno di questa iniziativa del comitato ex Umberto I che ci ha accolto per utilizzare anche questo spazio per dar appunto quel segnale che purtroppo la giunta ad oggi non ha recepito nel consiglio comunale e che ci porterà ad attivare un'iniziativa giudiziaria per cui andremo al tar rapidamente con i residenti di quella zona che si vedranno oscurato per parecchio tempo l'abitazione dove vivono avranno quattro anni di cantieri che devasteranno la zona porteranno via area verde consegnando qualche pezzo di verde sulle finestre dei palazzoni quindi tutta una situazione che assolutamente non coincide con l'impianto urbanistico di grande pregio riconosciuto dal piano regolatore attuale e attestato dalla giunta regionale che ha validato il piano e che prevedeva appunto un tuttunico di quel villaggio San Marco che ha avuto il beneficio di essere portato in giro per il mondo data la qualità dell'opera che sia la paesaggistica e urbanistica che sia rappresentata ecco come avete sentito i residenti i membri dei comitati non hanno nessuna intenzione di mollare continueranno la loro battaglia io ringrazio Brunello l'appuntamento con una nuova rappresentazione nel pomeriggio sempre qui in via Piave alle 17 e Francescon per essere stati i nostri ospiti restituisco la linea allo studio grazie davvero Ilaria Marchioni e grazie ai tuoi ospiti l'ironia serve sempre anche per riflettere su tematiche importanti allora torniamo adesso alla realtà di Treviso il conto alla rovescia per le amministrative però io partirei facendo un giro con le mie ospiti con una riflessione un'analisi dal loro punto di vista su quelle che sono le novità introdotte dal decreto lavoro approvato in un giorno non a caso ovvero il primo maggio dal governo Meloni diversi punti a direzio di cittadinanza con l'introduzione dell'assegno di inclusione meno burocrazia per le imprese incentivi per chi assume i percettori dell'assegno e innetto ovvero giovani che non sono occupati e che non sono impegnati in studio o corsi di formazione e poi tra i diversi punti c'è anche il taglio un ulteriore taglio al cuneo fiscale contributivo parto da Antonella Pietrobon e poi vado avanti con le mie ospiti come legge questo decreto lavoro che intende aiutare da una parte i lavoratori naturalmente in un momento particolarmente delicato e dall'altro punto di vista le imprese perché si parla spesso del costo del lavoro ed è un discorso che rientra poi in tutto quello che è il ragionamento sulla carenza di personale abbiamo sentito poco fa un imprenditore che non riesce a trovare personale nonostante dica offre un contratto in regola e uno stipendio più che dignitoso prego Pietrobon sì buongiorno a tutti grazie di avermi invitata allora il decreto lavoro che è stato approvato il primo di maggio in occasione della festa del lavoro è stato un decreto sì importante perché ha diversi diversi configura diversi interventi ha favorito il taglio del cuneo fiscale pertanto alleggerisce il costo del il costo del lavoro però anche questo è in una visione di di favoritismo però nello stesso tempo è un intervento un attantum nel senso che la copertura è prevista per sei mesi e poi per l'anno prossimo sarà da rivedere nel DEF a novembre se ci potrà essere la copertura per tanti interventi interessanti ma nello stesso tempo programmato a breve e questo è il limite credo complessivo del decreto lavoro che non permette di avere una programmazione a lungo e non rafforza quello che è appunto la programmazione dei lavoratori e delle imprese per per una stabilità e per un incremento dell'investimento a lungo Qualcosa un piccolo passo troppo poco ma guardi resto nell'attualità e dico che il tema di società tanto tonò che piove ma piove poco nel senso che questo decreto che appunto nasce poi dobbiamo ancora leggerlo nel dettaglio naturalmente per cui per quello che è stato reso noto peraltro non in conferenza stampa come aveva anticipato la Premier Meloni ma soltanto con un video un suo personale video autocelebrativo secondo me appunto è molto povero intanto mi permetta di ricordare che già che è stato presentato dalla Premier era come un provvedimento che era per così dire negli ultimi decenni quello che aveva più di tutti era riuscito sul taglio del costo del lavoro o delle tasse ecco siccome parliamo di circa 4 miliardi se non vado errata ecco io mi permetto di ricordare che ci sono stati i governi primo fra tutti il governo Renzi poi portato avanti da Gentiloni e poi successivamente fino ad arrivare a Draghi nel quale questo taglio è stato ben più ampio tra voglio dire gli 80 euro che erano considerati proprio dal Premier Meloni una mancetta di Stato sono diventati strutturali hanno comportato peraltro benefici per 10 miliardi uniti poi gli interventi sull'IMU per la prima casa che è stata abolita sull'IRAP sull'IRAP eccetera ha un totale di circa 25 miliardi nel silenzio più totale ma peraltro voglio dire parliamo al momento appunto di un provvedimento che è a termine e quindi ancora si dice che bisognerà poi provare a renderlo anche per l'anno successivo operativo sempre che si trovino circa 10 miliardi se non mi sbaglio quindi un affare non da poco non c'è stato ancora dato alcun dettaglio se questa idea è realizzabile oppure meno perché ripeto non c'è stata una conferenza stampa e per quanto riguarda poi il lavoro è noto che rispetto alla problematica alla quale si faceva accenno e cioè sulla carenza del personale eccetera ecco noi come è noto siamo quelli che in campagna elettorale nelle politiche avevamo inserito nel nostro programma anche appunto una forte diciamo azione sul reddito di cittadinanza che dal nostro punto di vista rimane anche come una delle cause relative poi alla carenza di personale e non siamo quelli che demonizzano la flessibilità nel lavoro non siamo quelli che demonizzano i contratti a termine e neppure i voucher nel senso che attenzione sono tutti strumenti che devono essere accuratamente sorvegliati e devono essere sottoposti a delle regole precise però attenzione che con il famoso decreto dignità o a mio parere indignità è successo quindi nel governo Conte che nel momento in cui si è operato per rimettere le causali sulla possibilità di rinnovare i contratti a termine è successo molto semplicemente che fatta la legge e trovato l'inganno sono prolificate le partite IVA che erano soltanto voglio dire apparenti oppure le cooperative che poi non avevano nulla dal punto di vista di una struttura sono tutte delle scatole vuote che sono servite soltanto a incrementare il lavoro in nero oppure quello irregolare quindi io credo che oggi continuare a rimanere fermi sulle dinamiche del mercato del lavoro che potevano andare bene 50 anni fa vuol dire mettersi al di fuori anche dell'attualità per cui noi naturalmente dobbiamo favorire in tutti i modi il collocamento all'interno del mercato del lavoro ma dobbiamo farlo utilizzando tutti gli strumenti che sono a nostra disposizione che se utilizzati bene se sottoposti adeguata vigilanza possono tutti servire allo scopo ci sono lavori stagionali o temporanei che purtroppo non hanno in prima battuta una loro durata che possa essere immediatamente a tempo indeterminato concludo dicendo che peraltro quel decreto dignità come era chiamato non mi risulta secondo i dati che ci sono stati forniti abbia incrementato i contratti a tempo indeterminato per cui voglio dire non possiamo risolvere problemi gravi con dei provvedimenti che sono emergenziali ma dobbiamo farlo in maniera strutturale e quindi solo così avremo delle risposte nel medio e lungo termine peraltro perché la formazione ha bisogno anche di una tempistica Gloria Tessarolo si io credo che sia una misura importante e condivido anche il fatto di renderla una misura rifinanziabile quindi non la vedo tanto come incertezza quanto con la possibilità e quindi la visione del governo di poter poi allocare meglio le risorse perché questo tipo di decreto in qualche modo scompiglia un po' le carte allora da un lato io rilevo che indubbiamente come dicevano le colleghe ci siano dei punti importanti sulla flessibilità da un lato perché oggi il lavoro richiede non c'è più la stabilità di una volta neanche la staticità soprattutto in certi settori e quindi c'è bisogno di garantire la flessibilità che viene chiesta peraltro spesso anche dai lavoratori che non cercano più i contratti a tempo indeterminato l'abbiamo visto soprattutto sulle fasce 30-40 anni quanti hanno abbandonato il posto di lavoro fisso per lavori che garantiscano una maggiore conciliazione e una qualità della vita diversa quindi è in completa rivoluzione il mercato del lavoro ma dall'altra parte la garanzia anche delle tutele quindi l'investimento per riuscire a recuperare i nette quindi i giovani che oggi non studiano non lavorano non è possibile una realtà di questo tipo dobbiamo prenderla per mano come? dobbiamo prenderla per mano a monte cercando di frenare l'abbandono scolastico e quindi di orientare meglio i ragazzi e in questo apro e chiudo le famiglie hanno un ruolo crociale sulle aspettative al lato dell'iscrizione ai ragazzi alla scuola superiore e chiudo e poi c'è il tema indubbiamente quindi dei voucher così come della maggiorazione in busta paga che sembrano piccole cifre non lo sono perché a fine anno noi lo vediamo lo vediamo ovviamente ai servizi sociali anche gli 80 euro possono fare la differenza nel pagare una bolletta o nell'accedere al servizio sociale per farsela pagare o agli enti del terzo settore a carita se così via poi mi sento di commentare come dire mi sento più a mio agio nel commentare la misura del reddito di cittadinanza è sbagliato dire che il reddito di cittadinanza viene cancellato viene trasformato quindi abbiamo trasformato il nome ma in realtà la grande paura che manifestava certa parte politica nei mesi scorsi che venisse smantellato completamente soprattutto mi riferisco al Movimento 5 Stelle che l'aveva pensata questa misura viene assolutamente come dire sgombrato il campo da questa paura certo con questo tipo di misura si cerca di sistemare le strutture che il reddito di cittadinanza aveva oggettivamente creato lo vediamo sia nell'ambito del lavoro perché è innegabile che con il reddito di cittadinanza c'erano delle strutture per cui alla fine conveniva stare a casa e percepire il reddito piuttosto che mettersi in gioco anche con lavori a tempo determinato ma rientrare nel mercato del lavoro perché tutte le politiche attive del lavoro ci dicono che lasciare abbandonare il mercato del lavoro non è solo una questione di perdita di tutele o di capacità e quindi di professionalità ma è anche una perdita di relazioni che ti allontana sempre di più dal mercato del lavoro quindi noi dobbiamo consentire alla gente di frequentare ambienti di lavoro di conoscere perché è poco da dire ma in Italia ancora si lavora molto sulle relazioni i dati dei centri per l'impiego lo dimostrano quindi non è stata smantellata anzi i criteri sono stati conservati tutti i criteri d'accesso sono i medesimi ma certo alcune storture soprattutto per gli inoccupati che però sono occupabili quindi quelli che il servizio sociale comunale oggi non vede perché noi vediamo i fragili sapete che l'invio è fatto delle persone direttamente da IMS quindi ai servizi sociali comunali accedono le persone con delle fragilità che vengono valutate come non idonee al mercato del lavoro per età perché magari in stato di gravidanza nel caso delle donne per disabilità per fragilità d'altro tipo e i centri per l'impiego invece ricevono direttamente l'invio dell'altro tipo di utenza di cittadini quindi vedo invece delle migliorie certo è dobbiamo provarle sul campo quindi da un lato come comuni siamo contenti perché sono state confermate ed è stata confermata l'attenzione alle misure di contrasto alla povertà che è partita più o meno nel 2018-19 quindi si conferma oramai questa strada che è stata tracciata io le ricordo prima di quegli anni questo tipo di sostegni venivano fatti esclusivamente dalle amministrazioni locali invece oggi lo Stato se ne fa carico non viene meno questo tipo di aiuto ma certo non possiamo più permetterci gente con redditi magari da lavoro nero o con gente che l'abbiamo visto di recente è agli arresti nei penitenziari e che percepisce redditi di cittadinanza quindi su questo un lavoro di cesello va fatto poi specifichiamo anche attenzione questa è la visione che hanno i comuni e che portano attraverso l'Anci e attraverso quelle che sono le nostre opportunità di incrociare gli altri livelli di governo attenzione a non creare i poveri di serie A e di serie B quindi in questo massimo il consiglio che mi sento di dare ma anche l'auspicio è quella della massima collaborazione il massimo dialogo con gli enti locali che sono quelli che vedono il profilo delle persone e possono anche dire qual è il bisogno che è molto diverso in genere per appartenenza territoriale qualcosa però di diverso no mi veniva un po' da sorridere perché per carità tutte affermazioni che hanno un loro senso però ecco prendiamo atto che il governo Meloni ha completamente modificato quello che era uno dei punti cruciali della campagna elettorale che ha consentito alla Meloni anche di ottenere un determinato risultato perché sul reddito di cittadinanza le idee erano completamente diverse adesso io nello specifico non ho ancora letto appieno come credo nessuno di noi rispetto appunto a precisamente dove si è andata ad incidere sappiamo quello che è stato pubblicato sui giornali che comunque ripeto è qualcosa di diverso rispetto a quanto si sosteneva in campagna elettorale io credo che e non ho trovato neanche nelle bozze che il passaggio fondamentale che si sarebbe dovuto secondo me valorizzare era la piattaforma per consentire l'incontro tra la domanda e l'offerta perché sappiamo bene tutti come sono organizzati o disorganizzati dipende dai punti di vista i nostri uffici del lavoro quindi a nostro parere una lacuna nel sistema perché per noi poi le modifiche per quella per il reddito di cittadinanza sarebbero state anche più sostanziali e diverse ma in ogni caso crediamo che mancasse e continua a mancare almeno ripeto sulla bozza non l'ho trovato questo meccanismo che in qualche modo consentisse di avere questo incrocio fra domanda e offerta in maniera tale che immediatamente si potessero collocare nel mercato e ovviamente presentare al potenziale datore di lavoro anche tutte le proprie caratteristiche e le proprie conoscenze il ragionamento che invece ho letto e che mi pare sostanzialmente faccia leva su questi corsi di formazione se non ho capito male che verrebbero finanziati ovviamente dallo Stato per consentire poi di acquisire una determinata capacità lavorativa pare che siano a richiesta ecco io questo ho letto e quindi su questo punto non è stato neanche spiegato bene in che senso sia una richiesta cioè nel momento in cui ok tu vuoi avere questo sussidio continuiamo a chiamarlo sussidio perché credo che questo sia rimborso per sostenere il corso ma attenzione questo è sufficiente per combattere il lavoro nero? è sufficiente questo meccanismo per cercare di sanare tutte quelle pieghe di illegalità che a nostro parere aveva creato proprio il meccanismo del reddito di cittadinanza io sinceramente continuo ad avere qualche perplessità avevamo un programma diverso che secondo noi era anche più semplice ed era probabilmente anche maggiormente incisivo rispetto all'obiettivo finale che non è quello di creare la povertà o di lasciare la gente in povertà perché poi come è noto c'erano altri strumenti anche prima del reddito di cittadinanza l'assessore me lo può insegnare rispetto a questo e quindi sarebbe stato sufficiente incrementare quegli strumenti queste modifiche a mio parere non sono tali intanto ripeto sono diverse da quelle ho detto in campagna elettorale ma non sono tali per superare le problematiche Pietro Bon mi rifaceva il reddito di cittadinanza che comunque si è discutibile però ha avuto un'importanza seria durante soprattutto il periodo pandemico ha sostenuto delle esigenze dei disagi veramente importanti e adesso finirà con il fine a fine 2023 verrà sostituito dal reddito di inclusione anche questo per un periodo definito e praticamente sarà un sostegno rimborso di bollette dei benefit giustamente come diceva la collega non è una visione a lungo non è un intervento strutturale cioè qui sarebbe veramente importante che e forse il comune come competenze sul lavoro ne potrebbe avere ed è quello di cambiare intensificare i centri di impiego favorire anche corsi di orientamento corsi di formazione soprattutto adeguati anche le esigenze più attuali del mondo del lavoro dove appunto vengono intercettati in et quei giovani che sono sospesi tra i 19 e i 29 anni che non trovano collocazione e va fatta un'operazione molto qualificata e qualificata di cesello di formazione e il comune potrebbe favorire appunto il contatto tra la domanda dei lavoro e offerta potrebbe mettere le istituzioni in collegamento perché come abbiamo sentito prima dal servizio non si trova lavoratori forza lavoro il comune su questo sulla formazione sull'adeguamento alle necessità odierne perché ci sono lavori che sono cambiati rispetto ai tempi precedenti e può mettere in connessione questo oltre che fare un punto anche sulla flessibilità del lavoro che va sostenuta perché oggi ci sono dei lavori che sono prettamente stagionali a scadenza va sostenuta anche con con riconoscimento di stipendio nel senso che non deve essere un lavoro precario ma deve essere un lavoro riconosciuto perché finita la stagionalità dei lavoro dove soprattutto nel nostro settore artigianale è richiesto deve essere qualificante alla scadenza appunto di questi contratti deve permettere al lavoratore di sostenersi per continuare la ricerca per formarsi e per restare in una dignità di società ecco volevo fare questi due appunti certo lo voleva replicare prego io non ci vedo onestamente nessuna dietro fronto retromarcia rispetto alla campagna elettorale fatta dal governo anzi direi che il governo ha agito da un lato sulla responsabilità e dall'altro però dichiarando almeno con le prime informazioni perché giustamente come diceva l'avvocato il decreto nel dettaglio non l'abbiamo ancora visto quindi lavoriamo sui dati che sono arrivati al momento no all'assistenzialismo sia al potenziamento delle politiche per il lavoro e questo è stato detto anche in campagna elettorale quindi non si aggredisce la povertà in quanto non vogliamo i poveri e lasciamo da parte e tagliamo i fondi come invece è stato detto più volte ma cerchiamo di lavorare sull'attivazione delle persone garantendo ovviamente anche dei cambiamenti che siano però graduali perché non si può neanche chiedere al paese e ai servizi coinvolti ogni tre anni di cambiare completamente la giostra perché ogni volta mettere in piedi un sistema nuovo di welfare vuol dire riorganizzare i servizi questo lo dico quindi a scanso d'equivoci quindi non si chiama più il reddito di cittadinanza ma sono misure per la povertà e che sono incardinate per come le leggiamo oggi sul tema dell'attivazione lavorativa più che sull'assistenza e questo è molto banale perché ribadisco i criteri di accesso restano gli stessi quindi andiamo a colpire il medesimo target però i benefit che vengono dati si parla di assegno nel caso appunto dei nuclei fragili ma ben cambiano invece le politiche che non seguiranno i comuni ma seguiranno i centri per l'impiego che riguardano le politiche attive per il lavoro e lì sì se l'assegno resta di 350 euro è chiaro che tu non vivi rifiutando lavori con 350 euro se sei abile al lavoro poi qui mi permetto di dire che non è una questione di banche dati quella del reddito di cittadinanza e dei percettori di reddito di cittadinanza occupabile o meglio non è lì il fulcro del problema sono persone che si arrivano a percepire il reddito di cittadinanza e attraverso queste misure ad accedere al centro per l'impiego non hanno le stesse possibilità del ragazzo che appena uscito dalla scuola si iscrive al centro per l'impiego ma nel frattempo manda curricula si attiva con una rete sono persone che vanno accompagnate erano stati previsti navigator che vabbè sappiamo non li vede più nessuno i navigator non li abbiamo mai visti quasi però al di là di quello fa ben capire che sono persone che vanno accompagnate non basta mixare un dato con un'altra banca dati e si trova il lavoro sono persone che hanno bisogno di fare una formazione di avere un orientamento specifico e di essere quindi riabilitate al mercato del lavoro attenzione quindi vorrei che si smitizzasse un po' il tema delle banche dati in cui l'Italia è presa peggio questi sono i percettori di reddito di cittadinanza che non sono le persone che accedono comunemente per vie normali e centri per l'impiego per quanto riguarda il lavoro mi viene da dire che no il comune non ha competenza ad oggi non l'ha mai avuta è una competenza regionale anche la formazione è fatta attraverso enti accreditati enti informativi accreditati noi ci occupiamo e ci siamo sempre occupati attraverso i servizi sociali di persone con delle fragilità quindi sì c'è un accompagnamento al lavoro che ovviamente non può essere con i tempi al mercato del lavoro diciamo così normale a cui tutti siamo abituati perché sono persone che hanno delle fragilità e quindi in questo sì i comuni le accompagnano però non c'è una specifica competenza nell'ambito delle politiche lavorative che spettano alla regione che applica attraverso i centri per l'impiego e vabbè al ministero avete messo sul tavolo tanti elementi la parola che più è risuonata nelle vostre parole povertà mi viene da dire che la vera scommessa adesso per anche gli enti territoriali anche per i comuni sarà quello di arginare una possibile bomba sociale che la situazione potrebbe economica potrebbe fare esplodere ci auguriamo tutti di no speriamo davvero che l'economia si rimette in moto avete parlato di come nel post pandemia il modo di approcciarsi al mercato del lavoro sia cambiato si cerca sempre di più di conciliare la vita privata con la vita lavorativa ci sono qui quattro donne siamo quattro donne si parla spesso di disoccupazione femminile dell'impossibilità dei servizi mancano servizi che aiutino una donna a conciliare la vita lavorativa con la vita familiare Antonella Pietro Bon la vera sfida anche per le amministrazioni locali per i comuni sarà una sfida tutta sul sociale per far ripartire una vita sociale dignitosa di un paese come il nostro siamo in un momento critico della nostra società perché la povertà è aumentata in maniera pesante ma nello stesso tempo siamo anche in un momento di grande opportunità cioè abbiamo il PNRR che potrebbe darci delle grosse opportunità per andare ad incidere soprattutto nel favorire i servizi i servizi che possono favorire la cura la cura alla società la cura alle persone e il miglioramento del del raggiungimento lavoro e situazione familiare adesso mi viene da dire che la cura alle persone si trasferisce proprio nell'accesso a chi ha bisogno a chi anche della sanità oggi se hai soldi puoi accedere velocemente se non li hai stai ad aspettare che che arrivi l'appuntamento magari aggravando anche quella che è la la situazione personale e a volte anche molto pericolosa pertanto io credo che come comune deve essere attento alla cura rimettere al centro la cura della città e la cura della città vuol dire anche cura delle persone con attenzione a tutti i fondi che possono risolvere e favorire l'accesso al lavoro con la fornitura e l'adeguamento degli asili nido sostegno anche al lavoro da casa smart working favorire anche adesso tra l'altro in ambito femminile le donne si trovano tantissime a dover sostenere casi di malattie o di pesanti in famiglia per anziani perché è aumentata la popolazione anziana e dovrebbero essere sostenute e dovrebbe essere porto un'attenzione anche a questo impegno che si ritrovano anche non volendo le donne pertanto opportunità con il PNRR attenzione alla cura riservale della città e dei servizi che diventa cura e benessere anche per la persona cioè rimettere al centro la persona e i servizi che possono qualificare la vita Nava e poi testarolo PNRR questa grande parola magica che però ha intorno a sé tanti punti interrogativi in questo momento perché sappiamo esserci tempistiche molto rigide da rispettare l'Europa bussa alla porta e dobbiamo vedere se siamo pronti a rispondere certo sì mi faccia fare un gancio tra i due argomenti che secondo me sono strettamente collegati quelli di cui ci siamo occupati del reddito di cittadinanza e della povertà io credo che ci sia stato sempre un'ambiguità di fondo e cioè si è cercato di risolvere due problemi con un provvedimento sbagliato e non ha risolto nessuno dei due la povertà è un tema grandissimo il lavoro è un altro tema quindi cercare di risolvere tutte e due questi fenomeni con un unico provvedimento a mio parere ha fallito su tutti i campi perché per tornare alla povertà il lavoro richiede le sue politiche di sviluppo eccetera per cui lo abbiamo già accennato per quanto riguarda la povertà che non è stata purtroppo abolita con quei provvedimenti mirabolanti e restando anche nel nostro territorio è in dubbio che l'amministrazione che adesso poi tornerà ad occuparsi della nostra città per i prossimi cinque anni credo che abbia delle grosse sfide ma molto molto gravi anche da risolvere me ne viene in mente una che è strettamente connessa purtroppo con la povertà e anche con i fondi del PNRR e c'è quello delle case popolari cioè io riporto in questo momento anche delle esperienze strettamente personali come professionista che non riesce a dare alcuna soluzione rispetto a delle famiglie che la prossima settimana saranno messe in strada perché sono decadute dalla possibilità di mantenere l'alloggio popolare e mi permetto di dire sono decadute loro malgrado nel senso che è vero naturalmente che ci sono delle situazioni così come è avvenuto per il reddito di cittadinanza nelle quali appunto non avrebbero avuto diritto né al reddito di cittadinanza né alla casa popolare ma questo sappiamo che rientra purtroppo in quei fenomeni che spesso non si è capaci di arginare con gli strumenti che si hanno a disposizione o forse non c'è stata sufficiente attenzione nel valutare alcune situazioni anomale che si erano verificate ma purtroppo il dato oggettivo qual è il dato oggettivo è che abbiamo avuto più di 900 domande delle quali mi pare più di 800 siano quelle poi entrate nel bando un bando sulle case popolari che ovviamente dovrà avere ancora quello provvisorio a lui o poi ci sarà quello definitivo eccetera eccetera fatto sta che di fronte a un periodo storico così difficile nel quale appunto la pandemia ha condizionato e ha aggravato purtroppo sempre le situazioni delle persone più in difficoltà perché diciamo la verità la pandemia per chi ha potuto godere degli ammortizzatori sociali o comunque è riuscito lo stesso a mantenere un'attività lavorativa con lo smart working o comunque insomma è riuscito in ogni caso a salvare diciamo la propria attività lavorativa ha visto anche questa volta le fasce più deboli risentire delle conseguenze maggiori quindi io vorrei capire come si farà adesso a risolvere il problema per esempio delle case popolari le cui assegnazioni mi verrà spiegato ovviamente dall'assessore presente non credo si possa smettire siano state pochissime perché perché abbiamo un'emergenza abitativa che praticamente assorbe quelle poche disponibilità che si hanno anno per anno e quindi voglio dire ha piovuto anche sul bagnato rispetto al bando del 2019 quindi abbiamo una situazione che dal punto di vista anche del PNR certamente può agevolare può aiutare il comune di Treviso perché ha già dei fondi stanziati per esempio sappiamo bene anche nell'ambito della riqualificazione per le case popolari ma sappiamo anche che non sono sufficienti che quindi i fondi che devono essere reperiti ulteriormente per cercare di soddisfare non tutta la domanda ma almeno una parte di essa e soprattutto io mi chiedo e coloro che non riusciranno a essere pressi diciamo in considerazione per evidente scarsità di alloggi dal comune cosa faranno? Quindi io credo che a fronte di una situazione che nell'arco delle anni dall'amministrazione Manildo in poi ha visto i numeri crescere sempre in maniera esponenziale una politica a mio parere più attenta che avesse osservato come ci si muoveva in questo contesto e come la povertà purtroppo nonostante Treviso sia una bella città e abbia delle potenzialità che tutti noi conosciamo ci sono però queste situazioni altrimenti non sarebbero aumentati così i numeri Treviso non sarebbe stata declassata di 11 posizioni perché il benessere collettivo purtroppo che è rappresentato da tutti gli indici che riguardano i servizi l'assistenza eccetera significa che un amministratore attento deve a mio parere cogliere per tempo i segnali di allarme e predisporre anche le misure di contenimento o comunque predisporre per quelle persone che non ce la fanno e che avranno bisogno di maggiore assistenza dei rimedi facendo degli accordi cercando degli alloggi anche fuori dall'immediato diciamo circondario cittadino insomma qualcosa bisogna fare perché qui la povertà che esiste non possiamo nasconderla e che è rappresentata appunto dalle sacche più deboli deve poter avere una risposta che non sia quella dei tempi del PNRR e dei progetti che purtroppo ancora non completamente sono stati presentati abbiamo una situazione grave a cui dobbiamo dare risposta adesso non fra tre anni diamo la risposta con chi questa materia l'ha seguita un po' perplessa nel senso che avvocato Nava lei è candidata dovrebbe dirmi lei come ritiene di risolvere i problemi io li sto risolvendo ogni giorno e in più sull'esperienza ha proprio accennato sull'esperienza che abbiamo no perché non si può scatenare un problema metterlo sul tavolo e poi dire facendo accordi con i comuni con tutto il rispetto perché bisogna o sono proposte concrete o stiamo illudendo le persone e il tema come lei ha detto è un tema spinoso perché lei li incontra come avvocato uno, due, tre, dieci nuclei quelli che arrivano da lei io li incontro come io e i miei collaboratori del servizio sociale dell'ufficio casa li incontriamo ogni giorno quando vengono sfrattati e noi dobbiamo trovare le soluzioni a tutti e lo specifico a tutti perché oggi quando tutti sfrattano il comune resta l'ultima frontiera che qualche soluzione più o meno idonea deve trovare quindi io esporrò il mio però sarei curiosa di sapere quali sono le vostre misure perché al momento non ho sentito nulla di praticabile prima della casa però stavamo parlando di conciliazione e allora su questo io credo che sia importante capire qual è l'idea nostra è quella che abbiamo seminato in cinque anni l'abbiamo seminata con le pari opportunità e continuiamo a seminarla oggi quando parliamo di famiglia di natalità e di lavoro femminile dobbiamo cominciare e non solo cominciare dobbiamo fare azioni concrete perché cambi la mentalità gli uomini oggi hanno un ruolo di cura e un ruolo anche nella sfera privata non lo hanno più solo le donne prendiamone atto e lavoriamo in questo senso e appena passato il primo maggio io condividevo una riflessione e dicevo continuiamo a chiamarla la festa dei lavoratori no signori è anche la festa delle lavoratrici le donne lavorano cominciamo a cambiare mentalità o non arriveremo mai alle riforme e in questo con la commissione comunale per le pari opportunità oggi apre il festival altreviso città per le donne lavoreremo e lavoreranno le colleghe perché saranno loro presenti io visto che c'è campagna elettorale me ne sto ben fuori per rispetto di tutti i candidati però parliamo anche della certificazione della parità di genere queste sono piccole cose noi abbiamo investito indubbiamente sui servizi però voglio dire che non è che possiamo prendere ogni volta le politiche dalla coda dal tetto cominciamo anche a prendere atto che ci sono uomini che hanno un ruolo all'interno della famiglia che vogliono più tempo per seguire i figli e che non la cura dei figli o dei genitori non deve essere per forza scaricata sulle donne cambiamo un po' la mentalità su questo io devo dire che noi abbiamo noi io la collega Nizzetto la giunta l'assessore al bilancio ci siamo impegnati ormai sono dati i triti e i ritriti lo sapete abbiamo portato gli aiuti alle scuole paritarie senza lesinare aiuti ai cinque istituti comprensivi quindi parlo della materia più legata alla collega che si occupa di istruzione da 650 a 950 mila euro e così facendo con le 18 strutture che abbiamo e parliamo di strutture 3-6 quindi scuole dell'infanzia noi siamo riusciti ad aiutare queste strutture ad arrivare ad avere un migliaio di euro insieme a quelli che sono i fondi che danno che dà la regione del Veneto che sono circa 200 euro bambino alle scuole paritarie i comuni in media riescono a derogare 600 euro treviso qualcosina in più lo Stato passa a queste scuole che in Veneto che in Veneto offrono il 70% delle risposte a queste famiglie perché non è scuola dell'obbligo 700 euro a fronte di un costo dello Stato di un impegno dello Stato per alunni parimenti bambini italiani attenzione italiani nel senso cittadini presenti nel nostro territorio con dei diritti e questo lo sottolineo di 6.800 euro quindi allo Stato spende per il medesimo bambino 6.800 euro si va in una scuola pubblica e ne spende 700 per una paritaria allora chi è che viene in soccorso vengono in soccorso i comuni 950.000 euro questo per le 18 scuole paritarie Treviso oggi è una città che offre nei servizi 0-3 che non sono servizi di conciliazione cominciamoli a chiamare servizi educativi perché hanno un ruolo importantissimo nella crescita sana dei bambini e nella lotta nel contrasto alla povertà educativa cominciamo a ragionare così noi l'abbiamo scritto con il sindaco ai ministeri perché è importante che in questa fascia d'età e lo dicono i pedagogisti non lo diciamo noi che nella fascia 0-6 lo Stato investa accompagna i genitori e investa sui bambini perché quello che un bambino vive e apprende tra gli 0 e 6 anni lo renderà un adulto più sereno e stabile un cittadino dell'Italia del mondo allora è qua che i comuni dicono dovete investire lo Stato deve rivedere questi servizi non possono essere scaricati alla FISM nel caso degli asili nido o solo sulla capacità dei comuni perché questi sono i fondi che il Treviso oggi mette sono fondi importanti noi oggi copriamo il 33% dell'offerta qualcosa in più a dire la verità ma i dati che ho io dell'anagrafe non coincidono perfettamente con i dati dell'Istat e li sto verificando se i dati dell'anagrafe sono corretti quindi con la natalità noi sullo 0-3 copriamo ben oltre il 33% la legge di bilancio stabilisce che in Italia bisogna arrivare ad offrire un servizio quindi posti accreditati almeno al 33% Treviso lo soddisfa però torno indietro non deve essere solo un servizio di conciliazione dobbiamo credere che stiamo investendo sui nostri cittadini sugli uomini e le donne di domani e allora è anche un servizio di conciliazione ma non per consentire alle mamme di andare a lavorare per consentire alle mamme e ai papà di decidere quali sono i tempi della loro famiglia questa è la filosofia che noi portiamo nei servizi adesso mi sposto scusatevi rubo un po' di tempo sul tema casa la fermo così sentiamo Antonella Pietrobon perché immagino poi che così in un'unica risposta la testa lo potrà dare voce e poi anche Nava se voleva ma allora se non avessi capito male la domanda allora Antonella Pietrobon l'emergenza casa l'ha già messa sul piatto in modo abbastanza deciso l'avvocato Nava sentiamo per quanto vi riguarda quelle che sono le misure le politiche per dar risposta a questi cittadini e poi la conclusione perché abbiamo 10 minuti 13 minuti per con Gloria Tessaro lo prego Antonella Pietrobon Io non affronto il tema delle case popolari affronterei più il tema case e a disposizione dei giovani delle giovani coppie io credo che Treviso abbia bisogno e la nostra coalizione ne ha anche affrontato di favorire l'accesso alla casa da parte soprattutto dei giovani che oggi per situazioni lavorative e per situazioni precarie non riescono ad accedere facilmente su questo bisogna appunto favorire nei servizi nell'attrattività della nostra città perché sarà anche il futuro è previsto che nel futuro ci sarà più concentrazione di andare a vivere in città noi dobbiamo essere in grado di offrire una calmerazione di prezzi e anche soprattutto ormai un investimento a livello strutturale bisogna pensare a recuperare degli immobili vecchi a ristrutturare a quello che si costruisce e riservarlo non soltanto ad abitazioni di un certo livello ma anche accessibili a giovani coppie a persone singole nel senso bisogna riservare delle case ai giovani che oggi sono in una situazione reddituale normale e normale vuol dire che è nella maggior parte della popolazione non ricca ma oggi sappiamo pertanto porterei più un'attenzione alla attrattività della nostra città favorendo l'incrocio appunto della domanda di lavoro perché ne abbiamo abbiamo un tessuto noi che è veramente interessante e non riusciamo ad attirare la forza e la resistenza dei giovani perché mancano i servizi perché mancano le comodità perché non ci sono delle specialistiche professionalità che oggi vengono richieste devono essere favorite il comune può favorire il dialogo tra istituzioni più ampie e il nostro territorio per sviluppare questa energia di lavoro che poi si andrà a concretizzare con reddito e favorire l'accesso alle famiglie e di conseguenza la natalità perché questo è il problema di adesso abbiamo la metà delle nascite rispetto ai morti pertanto non ci sarà un ricambio di di giovani di di energie nuove e di una società più più bella questo dell'emergenza abitativa abbiamo capito essere uno dei temi più caldi anche perché se ne è parlato tanto Gloria Tessarolo assessore proprio del suo settore e quindi vediamo di capire che cosa è stato fatto che cosa si può fare per risolvere queste tematiche che insomma ha toccato in un piano l'avvocato Nava si allora quanto diceva la collega Pietro Bon tutte colleghe candidate quindi per me siete tutte colleghe Pietro Bon giustamente è una visione molto molto ampia del tema dell'abitare io ovviamente come dire conosco e ci sono delle misure che l'amministrazione sta attivando che non riguardano però il profilo sociale giustamente quindi ad esempio nell'ambito delle giovani coppie c'è un progetto importante che sta seguendo direttamente il sindaco dove abbiamo condiviso dei ragionamenti quindi abbiamo portato l'esperienza del servizio sociale ma proprio per non beccare il target che è già seguito che ha già una risposta nell'ERPA anche se claudicante e che invece ha bisogno di una risposta più congrua nel libero mercato quindi ci sono delle iniziative su una quarantina di appartamenti che abbiamo occhiato su cui stiamo lavorando però non sto lavorando con un profilo diciamo prettamente sociale sul fronte invece dell'ERPA indubbiamente noi oggi siamo all'interno di una tempesta perfetta io l'ho sempre detto perché quello che oggi noi viviamo è la mancanza di politiche abitative collegate attenzione collegate al cambio di beneficiari di richiedenti che non sono più quelli per cui era partita l'edilizia residenziale pubblica non possiamo negarlo allora se da un lato prima abbiamo parlato di flessibilità del lavoro che oggi è così il mercato è così non c'è più il lavoro fisso il reddito fisso si va in quella direzione ma non è cambiato parimenti il mercato il libro mercato degli appartamenti quindi da un punto di vista immobiliare se non hai il contratto tu puoi essere una partita IVA ti saluto se non hai qualcuno che ti dà garanzie questo incide su tutte le fasce quindi dalle più fragili alle meno fragili immaginiamo cosa sta premendo oggi sul servizio sociale il servizio sociale oggi viene chiamato attraverso l'ERPA a rispondere e non parlo di dati oggettivi quindi di casi che ho tra le mani anche di sfratti recenti di persone ad esempio con capacità reddituale però una capacità reddituale che o derivante da contratti a tempo determinato o da lavori stagionali non riesce a trovare peggio se hai famiglia perché il mercato immobiliare oggi se hai figli siccome è passata perché arrivavano in ufficio da me molto sereni me lo dicevano nel 2019 oggi è cambiata la musica è passata la nomea che se avevi figli non ti sbattevano fuori ma venivano a dirtelo candidamente e invece non è più così oggi se i figli ti sbattono fuori lo stesso il servizio sociale ovviamente interviene perché la tutela dei minori è ancora una delle degli oneri che il sindaco ha e quindi noi per fortuna interveniamo sempre dove ci sono dei minori però gli sfratti vengono eseguiti quindi oggi la gente viene buttata fuori dagli appartamenti che da qui finisca in strada io al momento in strada non mi risulta ci siano famiglie nel senso che abbiamo in qualche modo siamo riusciti a trovare noi e devo dire il grande mondo del volontariato del terzo settore e le parrocchie siamo riusciti a trovare soluzioni anche temporanee in attesa anche di capire poi qual era la visione che la famiglia aveva oggi però se hai una famiglia non sei appetibile per il mercato immobiliare figuriamoci se magari hai anche un contratto a termine a tempo determinato questa massa sta premendo sull'ERP però non sono persone che dovrebbero beneficiare di un ERP ok? quindi noi oggi ci ritroviamo allora da un lato nel post-covid c'è stato il blocco degli sfratti quindi noi abbiamo avuto per due anni gli sfratti che erano in corso anche al terzo al quarto al quinto accesso perché a Treviso si arriva a questi accessi con l'ufficiale giudiziario completamente bloccati però nessuno ha pensato in quegli anni e poi posso capire perché poi è facile gettare la croce addosso a chi governa ma in certi momenti bisognerebbe esserci al loro posto quindi non voglio dire certo non ci ha aiutati non è stato pensato in qualche modo di aiutare i piccoli proprietari spesso sono piccoli proprietari a Treviso che avevano comunque affitti spese condominali e tasse da pagare non c'è stato nessun bonus appena è arrivato lo sblocco e questo noi l'avevamo già detto già discusso avevamo già incaricato la prefettura avevamo già parlato con la regione ci siamo attivati con gli altri comuni per cercare di far fronte comune contro l'ondata che inevitabilmente sarebbe arrivata il potere contrattuale oggi nel ritardare uno sfratto rinegoziarlo con un piccolo proprietario è pari a zero perché dopo due anni di udienze di carte di avvocati diventa impossibile da questo punto di vista noi abbiamo lavorato da subito sull'emergenza abitativa e qui lo ricordo con grande responsabilità del consiglio comunale abbiamo approvato il nuovo primo regolamento sull'emergenza abitative per fare ordine perché sapevamo che sarebbe arrivata la qualunque a chiedere emergenze abitative nel frattempo siamo stati doppiamente fortunati ci è arrivata anche un'inchiesta e perché abbiamo annullato la graduatoria che ci avrebbe consentito l'assegnazione perché poi facile dire come ho visto anche in questi giorni sui giornali che sì e no sono state assegnate 40 case le case assegnate le ha assegnate il comune non le ha assegnate l'atter perché nel contempo stavamo svuotando tutta via Feltrina quindi siccome hanno un diritto sulla mobilità e cercavamo di agevolare i cittadini residenti da tempo negli alloggi ERP di via Feltrina gli abbiamo dato tutto il tempo di poter scegliere tra quella che era l'offerta tenendola bloccata e quindi non pescando dalla graduatoria ma quella graduatoria chi conosce la legge lo sa prevede che chi è titolare di un'emergenza abitativa abbia un punteggio importante perché un'emergenza abitativa dal comune viene concessa quando non si ha a casa e quindi dà punteggio siccome quella graduatoria aveva anche punteggi dall'emergenza abitativa che è oggetto a quanto ci risulta dell'inchiesta per non creare ulteriore danno ai cittadini magari assegnando e poi dovendo fare i provvedimenti per togliere le case cioè saremmo stati proprio abbiamo il segretario ha deciso quindi gli organi istituzionali dopo un confronto hanno deciso che andava annullata quindi facile gettare la croce addosso abbiamo investito lavorando con Ater per correre per fare il bando che è uscito che abbiamo chiuso e adesso stiamo già lavorando per avere la graduatoria provvisoria nel frattempo continuiamo a lavorare sulle mobilità sugli sfratti quindi con le emergenze abitative che vengono concesse io vi ricordo sempre sono dieci appartamenti al momento finché sono queste le cifre abbiamo la percentuale del 10% sempre in base a quanto poi la regione del Veneto ci concede noi abbiamo già fatto richiesto ovviamente di poterle aumentare proprio per dare risposte soprattutto ai nuclei più fragili finisco dicendo che due cose una abbiamo investito e quindi abbiamo investito tanti fondi e ringrazio ovviamente i lavori pubblici e chi ha cercato i fondi per riattare mettere a disposizione più immobili possibili sono oltre 150 in 5 anni di mandato più di quanto era stato fatto in passato abbiamo lavorato e stiamo lavorando con gli altri comuni l'ultimo bando con l'autorità urbana e quindi con i comuni con termini stiamo lavorando per dare a loro la possibilità di lavorare in ERP perché non c'è mica solo Treviso e la condizione che sta vivendo Treviso la stanno vivendo tutti i comuni con termini la sottoscritta ha attivato un tavolo interno ha intercettato adesso l'associazione comuni marca trevigiana perché la richiesta di trovare formule alternative all'ERP arriva da tutti i comuni per sbloccare il mercato quindi stiamo lavorando un fondo di garanzia che non sia con una visione comunale ma che ci consenta di poter lavorare su formule flessibili e soprattutto non con i tempi di un'amministrazione che spesso sono vincolati ai bilanci quindi spostandola fuori dal singolo comune e anche per agevolare i comuni più piccolini che magari di caso ne hanno uno ma quando ce l'hanno è un caso critico e dall'altra parte però e dobbiamo dircelo perché le persone a volte sono vittime a volte sono vittime consapevoli la proposta che facciamo oltre che a continuare in maniera importante anche facendo osservazioni alla legge regionale perché il contatto con la regione è costante quindi le cose che non hanno funzionato sulla nuova legge regionale noi le abbiamo evidenziate e le abbiamo scritte e stiamo sollecitando anche la regione a prendere dei provvedimenti su alcune misure che rischiano di diventare un cane che si morde la coda discusse con Ather quindi i canali sono tutti aperti però poi va anche responsabilizzato il cittadino quando io mi ritrovo con casi che arrivano anche a minacciare o arrivano sui giornali con morosità da 50, 60, 70 mila euro in ERP non sono tutti così però oppure persone che si comprano l'auto invece che pagare l'affitto allora lì dobbiamo intervenire e questo sì l'abbiamo messo in programma elettorale perché oggi una volta risolta l'emergenza possiamo lavorare anche di fino e quindi lì sì mediazione ed educazione all'abitare va fatta e ce lo chiedono in primis anche le associazioni ce lo chiedono gli amministratori di condominio perché sulle nostre proprietà è importante anche che il valore della casa soprattutto per certi nuclei sia chiaro le spese condominali non possono essere l'ultima cosa che paghi l'affitto non può essere l'ultima cosa dopo che hai fatto tutto il resto anche perché se la famiglia ha un bisogno spese per beni alimentari per buoni libri per pannolini per bollette per qualunque altra cosa se hai un ISEE quindi hai davvero bisogno il comune ti dà una mano è sempre stato immagino che sia finito il tempo guardi un flash ma veloce veloce perché ho finito io capisco che Ubi Maior mi inorce è stato però ecco a fronte anche perché non posso neanche rispondere alla domanda come mi autorizza a chiamarla collega ecco mi è stata fatta quali sarebbero le nostre però si richiederebbero anche un attimo di tempo ma se riusciamo a sintetizzarle riusciamo ad andare un po' più lunghi in ogni caso ecco quello che volevo dire è che siccome a mio parere ogni soluzione per qualunque problema parte da un attento esame del problema stesso quindi io avevo ricordato che nell'arco ormai di tanti anni questo problema delle case popolari dei numeri delle case popolari era in costante aumento e siccome sappiamo bene che le tempistiche non sono sempre adeguate alle soluzioni immediate io credo che l'amministrazione attenta visto e considerato che siamo partiti dai 450 domande dell'amministrazione Manildio siamo arrivati a più di 900 con l'ultima amministrazione nella valutare nell'esaminare questo fenomeno a mia parere consapevolmente e alla stregua di tutte queste indicazioni che ci sono state ricordate anche molto tecniche alcune credo di difficile comprensione per chi ci ascolta non risolvono nell'immediatezza il problema di chi per esempio e mi ripeto mi risulta la prossima settimana diversamente ma spero che questa sia una buona notizia per queste persone che naturalmente si sono rivolte per chiedermi aiuto non saranno messe in strada dopo il quarto accesso a cui è stato detto a questo punto o ti trovi una soluzione oppure per quanto ci riguarda purtroppo per il tecnicismo che non possiamo sviluppare in questo momento andrà in strada quindi io vado via da questa trasmissione con una buona notizia e cioè che nessuno perché hanno dei bambini minori verrà messo in strada si troverà una soluzione quello che io voglio dire è che già che anche il problema dell'emergenza abitativa degli sfollati chiamiamolo che sono tutti rispetto della feltrina che quindi hanno poi dovuto avere la precedenza naturalmente rispetto a quei pochi a quelle poche unità abitative non è un qualcosa che è emerso dall'oggi al domani è qualcosa che è maturato nel corso del tempo e quindi io credo che tutti gli sforzi che si sono potuti fare all'evidenza per i dati oggettivi che abbiamo e per le situazioni critiche in cui ci troviamo non sono stati sufficienti per dare le risposte a tutti coloro che oggi lamentano questa grave situazione quindi facevo riferimento alla possibilità di mettere in campo delle strategie che dessero anche un'alternativa utilizzando anche quegli immobili che comunque certamente deve passare attraverso una contrattazione o comunque degli accordi con gli affitti calmierati con tutto quello che può essere pensato da un comune che è così consapevole della problematicità a cui si trova affinché non si arrivi poi sempre al momento in cui la bomba ti scoppia fra le mani e concludo dicendo che quelle situazioni di abuso a cui immagino faccio riferimento perché ha richiamato l'assessore e le conosce meglio di me rispetto a case popolari illegittimamente abitate da parte di persone beh ce ne sono allora se non lo dico io ci sono case popolari illegittimamente abitate da parte di coloro che come si ricordava hanno la macchina parcheggiata fuori di grossa cilindrata oppure all'interno delle case popolari fanno anche degli abusivismi se lei conosce degli abusi li deve denunciare ma sono stati già denunciati fanno parte di un blocco di denuncia è l'inchiesta e sono stati già denunciati se ci sono abusi da altri che lei conosce li deve denunciare sono quelli noti che sono stati già denunciati con gli strumenti che abbiamo poi se non ci sono dichiarazioni la gente intesta le auto ad altri o e vatte la pesca mi pare che l'avesse richiamata anche lei la circostanza che non è possibile avere la macchina io facevo riferimento a quello che è emerso ancora io ho detto che non si può spendere per una macchina io ho detto non si può spendere per la macchina invece che pagare l'affitto non ho detto che la macchina non è collegata alle possibilità dichiarate dalla persona può essere un appunto lei sta facendo un altro discorso io ho ascoltato molte volte il sindaco Conte strausata degli anni del 1990 quello che sta dicendo lei invece è gente che ha macchinoni e che abita in case popolari sono due cose ben diverse non è un abuso quello che dico io è una questione di priorità la priorità non è l'auto ti muovi con i mezzi pubblici e paghi l'affitto io credo che l'indagine riguardi anche invece gli abusi che sono avvenuti non sono in procura io non ho accesso agli atti leggiamo nemmeno io ho accesso agli atti però siccome sono situazioni che vengono anche denunciate molto spesso anche sui giornali e peraltro voglio dire parliamo di fatti anche abbastanza noti alcuni dei quali all'interno di questa indagine per quanto ci è dato sapere quello che io voglio dire è che anche su questo come sempre è assolutamente necessario che ci sia un controllo il più rigoroso possibile noi lo stiamo facendo benissimo e siamo soli però attenzione speriamo che questo serva in futuro a limitare i casi di abuso che secondo me esistono quindi le politiche devono essere fatte ad ampio raggio devono essere programmate non sono improvvisate come tutti i provvedimenti che poi se improvvisati purtroppo è una coperta corta che lascia sempre poi il tempo che trova ho davvero finito il tempo grazie ad Alessandra Nava per Italia Viva Azione Futura grazie ad Antonella Pietro Bon per la lista Denardi grazie a Gloria Tessarolo per la lista Conte pubblicità anzi meteo pubblicità e poi lo spazio con la CGL come ogni mercoledì grazie a tra poco la tua bolletta continua a salire chiama allo 0422 32 0605 EXI professionisti del risparmio energetico dal 2006 ben trovati al meteo migliora il tempo sul nostro territorio la pressione atmosferica torna ad aumentare il dettaglio di mercoledì 3 maggio sul Veneto la grafica ci mostra un contesto asciutto e stabile tanto sole ovunque con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso temperature in ripresa minime tra 8 e 11 gradi massime tra i 20 e i 23 all'incirca spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia anche in questo caso non mancherà un ampio soleggiamento dappertutto il cielo si presenterà limpido o velato temperature minime tra 9 e 14 gradi massime sui 21 23 gradi infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige dove di fatto avremo poche novità il cielo sarà limpido con qualche addensamento ma del tutto innocuo temperature minime intorno ai 9 gradi massime sui 23 24 gradi all'incirca dal meteo per ora è tutto vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia la tua bolletta continua a salire chiama allo 0422 32 0605 ex i professionisti del risparmio energetico dal 2006 8 l 0605